eccoci live bella a tutti dal prof come vi ho promesso questa sera parliamo di un argomento serio a dire è vero che il prof si parla sempre di argomenti insomma impegnativi e infatti so che siete in 25 in realtà a seguirmi proprio perché gli argomenti spesso sono parecchi impegnativi però in realtà diciamo che ci sono degli argomenti più scottanti di altri che che creano più reazione insomma che sono come dire belli frizzanti beh uno di questi credo sia proprio il problema dell'esistenza storica di gesù dell'esistenza reale di gesù e come sapete la domanda che ci siamo fatti la domanda a cui vuole rispondere questo video di oggi come vedrete presto non sono solo non sono io a rispondere insomma ma la domanda che ci facciamo è ma gesù è esistito veramente o è solo un mito cioè il suo racconto il racconto dei vangeli è affidabile e diciamo la costruzione di un personaggio della finzione oppure ci riporta ci mette a contatto un qualcuno che ha veramente calcato insomma con i propri piedi questa terra e ha vissuto una vita umana come la nostra bene perché ci facciamo questa domanda perché non possiamo soltanto diciamo essere dei lettori del vangelo e affidarci soltanto a delle belle idee a dei bei racconti in realtà noi vogliamo scoprire chi c'è dietro queste idee chi c'è dietro questi racconti perché vogliamo risalire a un'esperienza originaria chi ha la base dei racconti dei vangeli e chi ha la base della stessa fede cristiana ma come sapete c'è chi insomma la pensa diversamente e su questo faremo questa sera diciamo un riepilogo di di che cosa qual è lo stato dell'arte sulla questione cioè come stanno effettivamente le cose per la ricerca storica perché prima della fede in un certo senso quando si tratta di studiare i vangeli di risalire a ciò che c'è alla base dei vangeli utilizziamo appunto gli strumenti della ricerca storica gli strumenti dell'intelligenza perché insomma anche i credenti credenti non credenti non dobbiamo spegnere il cervello questo credo che sia una cosa fondamentale quindi oggi saltiamo i saluti saltiamo il nostro appello anche se vedo che siamo già moltissimi quindi proprio per questo saltiamo l'appello andiamo come si dice dritti alla questione e ho qui con me un carissimo amico ecco a voi adriano virgili ciao adriano come stai buonasera prof buonasera a tutti e a tutti gli ascoltatori a coloro che ci ci stanno guardando insomma allora abbastanza bene infatti vedo che dall'ultima volta ci siamo incontrati non hai risolto ancora il tuo problema con i capelli o sbaglio no è che porto la riga al centro è un macello sì sì sono sempre poi mi vanno negli occhi vabbè insomma è una scelta di vita una scelta di vita senti un po ma insomma che cos'è cioè io ho intitolato questo video ma Gesù è un mito tendendo in questo senso non un mito in senso positivo infatti alla 883 no 6 alla 883 no quella famosa canzone gli 883 sei un mito cioè non in senso diciamo di complimento non come riconoscimento cioè del valore di quello che fai ma proprio un mito come un racconto diciamo inventato che ha un significato insomma che però lascia il tempo che trova insomma adriano effettivamente questa storia di Gesù mito ha una sua storia cioè ci sono ci sono state persone convinte che hanno affermato questa teoria cominciamo cominciamo dall'inizio che cos'è il miticismo che credo sia così questa presa di posizione allora il il miticismo è la posizione di coloro che credono che il Gesù di Nazareth di cui ci parlano i Vangeli non sia un personaggio storico ma sia un personaggio meramente letterario cioè sia una costruzione puramente letteraria senza nessun aggancio comunque qualche solo qualche vaguo aggancio con la realtà storica questo qui questa qui è diciamo una definizione generale cioè come un personaggio dei fumetti per capirci come oppure come i personaggi della mitologia greca della mitologia greca o di qualsiasi mito per cui in fondo noi non sappiamo cioè potrebbe anche esserci al fondo delle storie che le riguardiano anche di Roma antica Romolo per esempio Romolo potrebbe anche forse essere esistito ma al 99 per cento ci insegnano gli storici delle religioni tutte le storie che sono collegate la maggior parte per lo meno delle storie che sono collegate alla figura di Romolo sono di natura mitica anche perché hanno appunto dei paralleli in altre mitologie soprattutto indoeuropee no cioè di Mezzil no il grande storia delle regioni che è scritto tantissimo su questo tema sulla regione di Roma arcaica interrompo il momento per dire che alla fine noi faremo proprio una bibliografia citeremo tutto quello che citi metteremo metteremo che quindi chi potrà che vorrà approfondire andrà potrà andare a verificare tutto quello che dice scusa ti ho interrotto non lo faccio più allora quindi dicevamo c'è appunto chi sostiene ha sostenuto e chi sostiene tutt'oggi che un discorso analogo possa essere fatto per il Gesù dei Vangeli c'è da dire però una cosa che il miticismo non nasce nell'antichità cioè nell'antichità ci sono stati molti polemisti pagani anticristiani ma una cosa da notare è che nessuno di cui c'è uno pensa a Celso no per esempio o a Porfirio cioè ci sono tanti tanti scrittori dell'antichità classica della 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 tarda antichità no dell'antichità classica della tarda antichità che hanno scritto contro il cristianesimo autori pagani però se uno poi va a vedere nessuno di questi autori pagani ha mai avanzato il sospetto che quella di Gesù potesse essere una figura meramente mitica nessuno cioè nessuno ha mai messo in dubbio l'esistenza storica di Gesù né i tratti generali della biografia che dello stesso può essere può essere derivata da dalle dalle fonti cristiane no quello che veniva messo in dubbio era fondamentalmente l'interpretazione che poi i cristiani davano a questa figura il miticismo vero e proprio nasce nel diciottesimo secolo nasce nel disottesimo secolo però per un motivo preciso perché nel diciottesimo secolo si afferma quella forma di pensiero che viene detto meccanicismo cioè dopo la rivoluzione scientifica soprattutto da parte di Galileo no e di Cartesio si afferma quella concezione del cosmo secondo cui il cosmo è un una scatola chiusa no una scatola chiusa in fatta di oggetti che si muovono ehm ehm però in in modo eh in un modo che può essere descritto da leggi rigorose per cui cioè nasce l'idea no per esempio di Leibniz un po' più tardi eh del 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 dell'universo come un un immenso orologio no di Dio creatore come un orologiaio che ha creato questo orologio e ha creato la cosiddetta armonia prestabilita questo però da una parte porta alla formazione del cosiddetto deismo cioè l'idea che sì Dio esiste perché l'universo ha bisogno di un creatore però è eh praticamente ehm un Deus oziosus come si diceva nelle vecchie. Un grande orologiaio. Sì è un Dio che ha creato l'universo gli ha dato le sue leggi ma l'universo adesso è in grado di andare avanti da solo cioè è un è un grande un grande orologio a cui che Dio ha progettato ha costruito ma poi va avanti da solo automaticamente questo però cosa faceva questo questo questa idea questa idea automaticamente porta a escludere il miracolo quindi anche l'incarnazione no qui quindi la la possibilità che il il divino interagisca con il creato quindi con l'umano ma anche con con la creazione in generale ovviamente questo per la rivelazione cristiana no porta ehm cioè così appena per l'immagine che di Gesù noi ricapiamo dai Vangeli portava dei problemi no cioè perché è Gesù nei Vangeli a parte che è Dio incarnato no eh nel Vangelo secondo Giovanni ma eh ma in tutti i Vangeli comunque è una figura che fa un sacco di miracoli che fa un sacco di cose ehm che ovviamente esorbitano da quelle che sono le normali leggi di natura eh e quindi accadde che già a partire dal diciottesimo secolo alcuni intellettuali ideisti appunto francesi e poi inglesi cominciarono soprattutto i primi cioè i primi due medicisti sono francesi e sono dico i nomi perché c'è i nomi lunghissimi eh 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 Costanzi Constantin François Volnay e Charles François tutte e due François Dupois che sono due eh intellettuali del diciottesimo secolo francesi che furono i primi a teorizzare appunto che la figura di Gesù così come noi la incontriamo nei Vangeli non non possa essere considerata una figura storica ma sia una figura mitica per esempio Dupois credeva che il cristianesimo il giudaismo e poi il cristianesimo nascesse eh da influenze di delle religioni insomma pagane in particolare mesopotamiche egizia e poi successivamente ellenistica e che in realtà il racconto di Genesi per esempio ehm fosse un'allegoria eh della quindi cioè per esempio nel caso della caduta di Adamo fosse un'allegoria della della dell'arrivo dell'inverno che genera una caduta del creato no? Il creato va nella nella nel nel in una condizione ovviamente l'inverno no? Una specie di mito di broserpina esatto sì sì perché fondamentalmente è quella l'idea no? Sì perché poi è sempre cioè come vedremo nulla è nulla è nuovo in realtà perché già questi due autori tracciano quelle che saranno le le linee eh le linee ehm fondamentali di quello che sarà tutto lo sviluppo del pensiero medicista poi fino a praticamente fino ad oggi ehm quindi praticamente invece l'avvento di Cristo è visto appunto come eh l'avvento della primavera no? Quindi del della rinascita della vita eh questo era volumne di poi invece aveva un'idea un po' più orientaleggiante lui pensava che in realtà la eh la vicenda di Gesù fosse mutuata eh da quella di indiana di Krishna della nascita di Krishna quindi della vicenda della vicenda di Krishna anche se poi in realtà eh du po' eh no volumne riteneva che eh forse 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 un Gesù storicamente potrebbe anche essere esistito ma eh che appunto tutto quello che noi leggiamo nei Vangeli di 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 costui è eh puramente mitico eh queste idee poi rimasero sotto traccia eh per tutta diciamo la prima fase della ricerca sul Gesù storico e riemersero con prepotenza alla fine dell'ottocento eh alla fine dell'ottocento nacque la cosiddetta scuola di storia delle regioni tedesca no? A cui hanno appartenuto importanti studiosi tra cui ehm tra cui c'era appunto questo uno studioso che si chiamava Reisenstein che scrisse un libro eh in cui avanzò una tesi che poi ebbe molta fortuna e continua ad averla appunto tra i medicisti cioè questo libro si intitolava religioni misteriche in cui praticamente lui ehm teorizzava che eh nel primo secolo praticamente si svilupparono diversi diverse religioni misteriche in realtà è vero cioè nel primo secolo noi vediamo che si sviluppano storicamente eh nella nell'area dell'impero romano si affermano diverse religioni misteriche e che il cristianesimo non fosse in fondo che una mutazione genetica se vogliamo eh del dei misteri di dimitra fondamentalmente eh queste a queste idee praticamente dette eh fornì un sacco di materiale eh uno studioso eh inglese che si chiama James Fraser l'autore del ramo d'oro che eh che era un diciamo l'ultimo dei grandi antropologi vittoriani il quale appunto aveva ipotizzato nel ramo d'oro che ehm tra la nel primo secolo fondamentalmente fosse eh diffuso in tutta l'area del Mediterraneo ci fosse un unico grande mito un unico grande eh religione misterica eh fondata appunto sul concetto di Soter del sul concetto di Salvatore eh facendo appunto delle analogie tra le varie tra ciò che noi sappiamo eh di questi vari culti e eh appunto la letteratura che questa ehm che questi che questi culti poca in realtà ci hanno lasciato e eh e quindi in realtà ehm molti pensarono in realtà questo questo ehm Fraser non lo dice esplicitamente però appunto eh Risenstein lo dice ma poi lo diranno anche molti altri il cristianesimo non fosse che una variante eh di questo di questi di questi culti misterici fondamentalmente. Quindi sostanzialmente era un concetto, un'idea religiosa che veniva poi espressa con un racconto. Declinata in varie in varie forme e diciamo in una delle forme in cui questa questo concetto, questa idea no del del Salvatore veniva declinata era appunto nell'idea giudaico-cristiana di di Gesù fondamentalmente. Questa è l'idea di fondo. Eh poi però cosa poi successe una cosa successe in realtà queste tesi. Ma ebbe successo questa questa tesi? Esatto. Cioè la cosa interessante sì che ebbe eh lì per lì ebbe un un successo limitato però perché la stragrande maggioranza degli studiari all'epoca diciamo perché ehm praticamente questa tesi si collocò eh in alla fine proprio di quella che è chiamata la 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 prima fase della ricerca, la la old cast, no? La prima fase della ricerca sul Gesù storico che aveva condotto ad esiti abbastanza contraddittori e esce esce questo libro di Risenstein alla fine del all'inizio del novecento proprio mentre mentre appunto la ricerca sul Gesù storico vive la sua crisi acuta eh e quindi per un certo periodo ha un po' di successo poi però eh subentra praticamente in questo ambo di studi quasi immediatamente la scuola bultaniana che riprende molto in realtà eh dalla 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 scuola di storia delle religioni però per esempio Bultman anche se riteneva che eh fondamentalmente i i Vangeli fossero ehm dei testi di fede e non di storia non ha mai messo in dubbio e ci mancherebbe l'esistenza storica di Gesù diciamo che ehm quindi riassumo perché ci ascolta cioè la tesi miticista sostiene Gesù non è mai esistito come personaggio in realtà quello che si racconta di lui è la messa sotto forma di racconto di una religione eh basata sui cicli della natura basata su dei concetti una religione misterica appunto che era diffusa nel Mediterraneo e chi arriva insomma a Roma sotto forma di cristianesimo non so più o meno ho fatto un riassunto un po' sì grossomodo è questo grossolano estremamente grossolano ma così mentre invece diciamo che la tesi prevalente dagli studiosi è stata che sì vabbè i Vangeli qualcosa hanno aggiunto qualcosa hanno abbellito qualcosa hanno inventato hanno forse appunto fatto di Gesù una leggenda però c'è un Gesù storico c'è un personaggio dietro questo era sì diciamo anche nella fase diciamo più tetra della ricerca sul Gesù storico la fase della cosiddetta no quest no cioè quando appunto a predominare è la la scuola della critica delle forme o della storia delle forme che eh Bultman nei suoi allievi fondavano anche di Berius eccetera tutti 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 i suoi ehm poi dopo successivamente della cosiddetta storia della critica della redazione eh che ritenevano che appunto i Vangeli fossero eh in realtà delle costruzioni fondamentalmente delle comunità cristiane e quindi rispondessero a delle esigenze teologiche esclusivamente quasi esclusivamente teologiche che e che quindi poco ai cristiani e di conseguenza ehm ai Vangeli interessava del Gesù che aveva eh calpestato la terra eh palestinese nel 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 primo secolo no? Eh poi ovviamente le cose sono cambiate oggi diciamo che la ricerca sul Gesù storico è molto più ottimistica no? soprattutto con la seconda ricerca e con la terza ricerca oggi si è si si è tornati a pensare che in realtà ehm i Vangeli ci ci dica ci forniscono molte informazioni storiche su Gesù eh però nonostante questo sì 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 nonostante questo prosegue prosegue la 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 e infatti torniamo torniamo al miticismo cioè a un certo momento questa idea è venuta fuori a fine settecento per motivi di cambiamento culturale a fine seicento fine seicento raggiunge il suo apogeo eh se ho capito bene tra la fine dell'ottocento e primi del novecento ecco chi è il rappresentante top di questa? l'ho detto prima cioè Reisenstein no? è Reisenstein ok benissimo poi queste poi questa idea declina cioè da quel momento in poi? declina già sparisce praticamente sparisce dal mondo accademico eh perché la differenza è questa cioè fondamentalmente tra il miticismo contemporaneo e il miticismo diciamo eh il suo avvo dell'ottocento ma anche del seicento ma soprattutto dell'ottocento cioè quindi il miticismo torna nell'università o sparisce per sé? no non è più tornato oggi non è più tornato quindi vuol dire che nessuno ha più insegnato l'università questa ipotesi l'ha più ritenuta sensata no dal dopo il declino appunto della scuola di storia delle religioni nessuno ha più insegnato eh tesi miticiste a livello accademico nessuno infatti se tu vai a vedere quali sono i miticisti che 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 circolano oggi nessuno di costoro eh siede su una cattedra eh qualcuno sì su cattedra universitaria ma nessuno su cattedra universitaria ehm che si occupano proprio della storia delle origini cristiane mh perché eh ce ne sono alcuni che che magari sono professionisti ma che insegnano altro no? Che insegnano tutt'altro eh ma diciamo però che i personaggi più più in voga non sono neanche docenti universitari molti non hanno neanche un percorso accademico serio alle spalle poi se vai a vedere anche perché se uno fa un un minimo di un minimo di formazione ovviamente sa cioè impara il metodo storico il metodo storico religioso e comunque quel metodo di ricerca storica sa che determinate teorie non stanno in piedi perché eh tanto è vero che oggi noi ce ne abbiamo diversi di questi di questi tipi. Ecco allora perché è stata proprio definitivamente abbandonata a livello accademico questa questa proposta su Gesù? Perché ci appunto fondamentalmente così come veniva declinata nel nel novecento si è resi conto che le analogie che venivano ehm che venivano tracciate tra la figura di Gesù e le divinità eh mitiche del delle varie religioni eh pagane e non in realtà erano molto arbitrarie cioè spesso sono completamente inesistenti esistevano solamente nella fantasia di coloro che le che le tracciavano nel novanta per cento dei casi sono delle analogie eh inesistenti e per il restante dieci per cento molto vaghe per cui supporre che eh il eh cioè la figura di Gesù possa essere una figura inventata miticamente inventata per supportare una religione eh di tipo misterico ormai non è una una teoria che 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 nessuno nessuno sostiene più cioè non non ci crede più nessuno a questa cosa perché c'è stato comunque un progresso della storia delle religioni no? Cioè consideriamo che quelli erano gli albori della storia delle religioni la storia delle religioni nasce come disciplina proprio alla fine dell'ottocento eh con Friedrich Max Müller eh e poi ha la sua esplosione negli anni venti del novecento arrivano i grandi storici delle religioni che fanno piazza pulita di tutte queste teorie no? In Italia noi abbiamo avuto il grande Raffaele Pettazzoni eh e poi tutta la sua scuola no? Ma anche però questa questa presa di posizione che sostiene che Gesù sia soltanto un mito ritorna a quanto pare cioè ci sono ancora dei sostenitori di questa idea. Allora il tema è che rimane sotto traccia per due motivi perché viene cioè eh viene fatta viene fatta propria negli anni trenta dalla storiografia ehm sovietica quindi cioè per per parecchi decenni la posizione ufficiale della storiografia sovietica era appunto quella se qualcuno di voi ha letto no? Il maestro è Margherita no? Risente eh di questa di questa idea no? Cioè dove c'è il romanzo nel romanzo che è una storia di di asciua no? Eh di questo tipo che è una sorta di disagio no? E lì Bulgakov in realtà non fa che riprendere eh delle suggestioni che gli venivano da quella che era la storiografia ufficiale sovietica dell'epoca cioè la storiografia sovietica nega l'esistenza storica di Gesù. No io so che nella nell'ora di ateismo che c'era nelle scuole sovietiche eh c'erano degli opuscoli che sostenevano la tesi del medicismo insomma. Esatto perché quella era la posizione ufficiale della storiografia sovietica ovviamente per motivi ideologici perché poi nel tutto il resto del mondo e queste tesi erano considerate superate quindi fino per tutti gli anni settanta poi diciamo se è un po' se è un po' anche lì la posizione degli storici sovietici pure loro si sono resi conto a un certo punto che determinate tesi insomma non ci facevano con determinate tesi non ci facevano a livello internazionale una bellissima figura quindi poi diciamo si sono hanno un po' allentato questa cosa no? Eh e poi ricompare negli anni settanta in Europa eh da ovviamente sempre eh in in circoli anticlericali ma non solo eh perché eh tra i vari medicisti che che ci sono adesso io qui in questo libricino ne ho fatto ne ho fatto una piccola lista di quelli che sono i medicisti attualmente in attività no? Eh o comunque eh scomparsi di recente la più famosa era eh Dorothy M. Murdoch quella che ha scritto un libro che si intitola The The Greatest Story Ever Ever Sold no? Anziché Ever Told. La parola di un famoso titolo di un bel film no? Con quello con Max von Sydow che fa Gesù no? Certo. A me piace molto. La più grande storia mai raccontata per chi è. Esatto però in inglese era The Greatest Story Ever Told no? È l'attrata di Ever Sold. È stato tradotto anche in italiano tra parentesi eh? È la più grande storia mai venduta eh che appunto riprende proprio in pieno quelle che erano le tesi se qualcuno di voi è stato così sfortunato da vedere eh diciamo quello pseudodocumentario Zeitgeist no? Eh all'inizio eh c'è uno documentario che girava qualche anno fa anche su su internet su su YouTube che sono Zeitgeist che all'inizio praticamente ehm la prima parte del documentario appunto se girava qualche anno fa probabilmente gira ancora comunque sì sì no se lo se lo digi non lo trovano ma è la prima parte del documentario è proprio questo cioè loro dicono cioè praticamente l'idea è che ehm si si fa passare l'idea che fondamentalmente la la storia di Gesù è mutuata da 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 varie varie mitologie antiche no? Quindi ha dei paralleli strettissimi con 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 vari miti del dell'antichità e e quindi si venti del sospetto che possa possa essere ma io toglierei anche il condizionale che che sia che è più di un sospetto che fondamentalmente il cristianesimo sia una versione se vogliamo aggiornata e rimasticata di 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 queste religioni perché e poi ovviamente la tesi del del documentario che è la 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 ovviamente ma sono tutte affermazioni solito fatte in chiave anticristiana cioè non c'è dietro una vera e propria ricerca storica cioè è una posizione ideologica allora in realtà poi se uno va a vedere perché in realtà cosa fanno costoro? Costoro non fanno che riprendere le citazioni di questi famosi autori dell'ottocento quindi spesso non c'è una consultazione diretta delle delle fonti per cui allora ti dicono ok dice che ne so Horus è nato il 25 dicembre pure Horus era nato il 25 dicembre eh però nessuno mai va a controllare se effettivamente in qualche testo eh si dice che sia nato il 25 dicembre in realtà poi se tu vai a controllare scopri che non è affatto così vero era nato era nato sì in realtà eh c'è un'analogia ma non ha nulla a che vedere con la nascita eh ci dice ehm Erodoto che a dicembre venivano venivano c'erano delle celebrazioni in onore di Horus perché comunque Horus era una divinità legata ai cicli solari no? e quindi è però nessuno cioè non da nessuna parte risulta che eh Horus fosse nato il 25 dicembre anzi eh io qui lo scrivo proprio eccolo qua è nato il vento Horus in realtà è nato nel mese egizio di Kociak che sta tra ottobre e novembre secondo la mitologia secondo la mitologia eh egizia quindi non c'entra proprio niente quindi e se tu vai a vedere io qui eh se posso far vedere io in questo libro qui che ho scritto qualche anno fa sì sì fermalo fermalo che se lo muovi non si legge ottimo ok si vede sì si vede adesso purtroppo questo l'ho scritto nel 2016 adesso credo sia anche fuori catalogo eh però eh dedico proprio un capitolo eh al al documentario Zeitgeist che era del 2006 del 2006 quindi parecchi anni fa adesso vedete mi ricordavo che qui ci scrivo anche la data d'uscita del 2006 dove lui praticamente dove dove vengono fatte queste queste analogie vedo eh riprese appunto dai libri della Mardoch però fondamentalmente e una una me le piglio e vado a consultare le tesi e spiego come nel novanta per cento dei casi si tratta di analogie inesistenti e lì dove c'è effettivamente un'analogia questa è molto vaga e quindi è piuttosto arbitrario supporre che eh la figura di Gesù possa essere ricavata da 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 questi miti anche se poi nessuno nega che eh in realtà nella riproposizione della storia di Gesù eh alcuni schemi eh alcuni schemi eh narratologici possano quindi influenzare ovviamente in questo senso eh eh qualche analogia possa essere ricavata anche con la altre narrazioni anche di tipo mitico alcuni schemi narratologici possano ovviamente eh afforare no nella 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 struttura dei Vangeli però da qui a dire che eh appunto è la struttura la la figura di Gesù è completamente mutuata dai miti eh della paganità insomma eh ce ne corre insomma anche perché poi eh noi della dell'esistenza storica di Gesù abbiamo anche delle delle conferme indirette ecco quali sono quali sono diciamo eh gli argomenti che in ambito accademico fanno assolutamente escludere la non esistenza storica di Gesù gli argomenti diciamo più importanti ma in realtà in realtà è sì è un dato che si si tende a dare per scontato perché perché è chi perché perché cioè noi non dobbiamo necessariamente dimostrare che Gesù esista se tu che dici che non esiste che mi devi dimostrare in un certo senso che non è esistito perché se no se io ti dico non è esistito Napoleone l'onere della prova sta su di me esatto perché 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 è un 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 personaggio di cui ci parlano talmente tante fonti eh anche non cristiane perché ci sono autori pagani e e Flavio Giuseppe che ci parlano di Gesù infatti cosa fanno i miticisti i miticisti vanno lì e si mettono a spulciare queste fonti e si mettono a negare e a negare l'attendibilità di queste fonti e a dire che sono interpolazioni cristiane ovviamente avanzano tutte ipotesi ad hoc no per sostenere le loro tesi quindi vanno lì prendono che quando Tacito ci parla appunto de eh dell'incendio di Roma e ci dice e ricorda appunto che la 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 setta il movimento dei cristiani prendeva il suo nome da questo valegname che era stato fatto croceviggere da Bonzio Pilato eh dicono no questa è un'interpolazione cristiana perché non ci sono prove del dell'incendio addirittura dicono non ci sono prove dell'incendio di Roma arrivano a dire dire il vero ho fatto una volta una passeggiata un archeologo al centro di Roma che mi ha fatto ci ha indicato proprio io ero un gruppo di si sa oggi sappiamo la scuola ci sono andato ci ha fatto proprio vedere guardate qui vedete si vede lo strato delle tracce evidenti di un grande incendio oggi noi sappiamo pure da dove è principiato è iniziato dal circo massimo dai magazzini che c'erano sotto al circo massimo c'erano eh dei magazzini di 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 merce da lì sembra che sia partito e poi si sia esteso no siccome però coinvolse tutta l'area che poi che eh praticamente eh Nerone avrebbe destinato alla edificazione del della sua domus aurea no si sparse la voce che in realtà l'incendio l'avesse fatto a piccare Nerone lo stesso Tacito ci dice che probabilmente non era vero per quanto lui era molto antineroniano è certo se lo dice lui che lo detestava insomma magari che probabilmente non era vero però allora dice Nerone per distrarre da sé i sospetti eh la legge del caporespiatorio la solita legge già stavano un po' sulle scatole a tutti perché era un gruppo strano la gente non li capiva dicavano queste si riunivano per per fare questi culti che nessuno sapeva che cosa fossero eh parlavano facevano parlavano di cose strane non rispettavano gli dei eh comunque bisogna dire contro l'umanità no? E quindi però appunto diciamo negare questa questa testimonianza io ho un amico che eh Gerim Bogdani Pischetta che ha scritto lo trovate volendo su su Accademia ha scritto tutto un 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 bellissimo articolo in cui eh spiega come non è possibile negare la la storicità di questa cioè non non la storicità l'autenticità di questo passaggio. Guarda ultimamente mi sono imbattuto chissà perché forse YouTube conoscendo il futuro studiando il mio comportamento col suo algoritmo magico e mi ha proposto dei video di una tizia che sostiene o degli o dei video che rispondono a questa tizia americana un po' strampalata per la verità che sostiene che l'impero romano non è mai esistito che l'antica che l'antica Roma non è mai esistito e questa è questa argomenta e ha decine di migliaia di follower non so se convinti o semplicemente incuriositi o divertiti però oggi si può sostenere qualunque cosa cioè si può si può sostenere fuori da un ambito accademia. Allora il ragionamento storico è di tipo abduttivo no cioè quindi funziona. Ecco spieghiamo che cosa vuol dire la abduzione cosa vuol dire? Praticamente è quel ragionamento che ti porta a trovare l'ipotesi più probabile perché tutto è possibile è possibile pure che Gesù fosse un marziano? Cioè il professor Boccaccini lo dice sempre io posso dire Gesù era un marziano è ok però c'è qualcuno che non nominiamo c'è qualcuno che nominiamo che sostiene esattamente questa tesi magari di pianeti ancora più lontani da Marte però il concetto è questo. Io posso sostenere quello che mi pare cioè posso dire quello che voglio perché se una cosa non è contraddittoria è logicamente possibile ma il fatto che sia logicamente possibile non ci dice che sia ragionevole il sostenerla. Questo ci insegna questo è il metodo abduttivo. Il metodo abduttivo ci dice che l'ipotesi più ragionevole è quella che rispetta i dati così come si presentano nelle fonti e per interpretarli non introduce nessun altro dato supplementare. Il problema dei peticisti è proprio questo che loro per prima di soprattutto per sostenere la tua tesi devono fare cherry picking cioè devono andare a prendere prendere esclusivamente dei dati semplicemente una porzione minima dei dati a disposizione e inventarsi delle ragioni per scartare tutto il resto. E per scartare tutto il resto devono introdurre già degli altri argomenti all'interno del ragionamento e quindi già lo rendono meno probabile. Poi con quel poco che gli rimane in mano devono costruire un'impalcatura. In genere questi elementi sono troppo poveri per costruire un'impalcatura, un discorso che si regga, che sia intellegibile. Allora per costruire questo argomento devono inserire delle altre ipotesi non provate. Quindi c'è un secondo passaggio in cui vengono introdotte altre ipotesi non provate. Quindi diciamo è sbagliato sia nel punto di partenza che nel punto d'arrivo. Quindi c'è una assoluta... Abbiamo fatto il ritratto di un sacco di gente che ci scrive libri. Esatto. Sugli argomenti più assurdi, diciamo la verità. Esatto, no, la questione è proprio questa, cioè è che tu prendi solamente quello che a te ti interessa e scarti il resto. Purtroppo sono anche professori universitari che utilizzano un metodo non molto dissimile, però mantenendosi all'interno insomma di ciò che perlomeno è discutibile. E' ritenuto accettabile nella comunità accademica. Per esempio ecco io qui oggi come oggi, io ho parlato della Marduk, ma il medicista che va per la maggiore è un americano che si chiama Richard Carrier, il quale sostiene appunto che una tesi secondo cui il cristianesimo sarebbe nato come un culto misterico di matrice ellenistico giudaica. Allora, primo qui siamo all'invenzione delle categorie storico-ologiose perché non risulta nei manuali di storia di religione questa categoria. Non esiste la categoria dei culti misterici ellenistico-giudaici. Boh, cioè se l'è inventata lui. Una categoria ad hoc per risolverla. Lui fa, sì, se l'è invece, fa una categoria ad hoc. Questo è un errore. Poi c'è un altro errore invece è che considerare, un altro errore che fanno altri è considerare invece le categorie storico-religiose come se fossero delle categorie universali. Questo è un altro errore. Per esempio, adesso per fare un nome, secondo me fa un errore per me Corubbio, che è un importante studioso, che ha pubblicato, è uscito l'anno scorso in italiano, l'invenzione di Gesù. Lui a un certo punto dice, dopo aver demolito praticamente la figura di Gesù come emerge dai Vangeli, dice, ma allora com'è possibile? Perché lui dice, lui non è che dice che Gesù non sia mai esistito, lui dice che Gesù sia esistito, che era un profeta apocalittico, però non era un profeta pacifico, ma apparteneva a un gruppo militante armato e per questo fu messo sulla croce, perché fu preso, arrestato insieme ad altri che facevano parte di questo gruppo, per questo lui fu messo in croce in gruppo. E poi dice, ma com'è possibile che da questa figura poi viene fuori il Gesù dei Vangeli? Lui dice, perché? Perché c'era, viene riletta la sua storia alla luce del culto millenaristico. Allora io qui ho i miei professori di storia e religioni, in particolare Sabatucci, che quando si avesse letto una cosa del genere sarebbe caduto dalla sedia, perché quello che mi è stato insegnato a me all'università è che le categorie storico-religiose non hanno un valore metastorico, ma sono delle categorie che hanno un valore storico, vanno storicizzate e possono essere utilizzate nella misura in cui è possibile rintracciare la diffusione di un'idea. Quindi per esempio Sabatucci fece tutto, scrisse un importantissimo trattato sul politismo, dicendo che il politismo era nato nell'antica Mesopotamia, tra i Sumeri, e poi si era diffuso tutta l'area del Mediterraneo, nell'Iran e poi nell'area del Mediterraneo, e ha fatto un volume, due volumi di 500 pagine all'uno in cui porta avanti questa tesi. E quello che mi ha insegnato Sabatucci è che prima del cristianesimo la categoria del culto millenaristico non esiste, cioè il millenarismo nasce col cristianesimo, quindi applicare per giustificare la nascita del cristianesimo una categoria storico-religiosa che addetta di molti storici delle religioni importanti si nasce proprio col cristianesimo, insomma è il cane che si morde la coda, no? Cioè questo è uno secondo me dei limiti, un testo che per carità è molto interessante, perché poi lui dice anche cose molto interessanti e molto pensate, però poi diciamo nella sua tesi di fondo tira fuori dal cilindro sto coniglio per sostenere appunto cosa che secondo me è insostenibile. Per esempio ecco il più importante medicista oggi in attività è come dicevamo prima questo Richard Carrier. Lui cosa dice? Che all'inizio appunto i cristiani non pensavano, se tu vai a leggere secondo lui nel lettere di Paolo, Paolo non pensa a Gesù come una persona realmente esistita, ma lo pensa come una divinità, come le divinità dei culti misterici e dice lui così come noi assistiamo in tutti i culti misterici che le divinità poi piano piano col passare delle generazioni, dopo due tre generazioni, si trasformano in personaggi storici, la stessa cosa è successa con Gesù. Gesù all'inizio, cioè in Paolo, in Paolo viene considerato semplicemente un personaggio mitico e nei Vangeli, cioè a distanza di... ovviamente lui fa una dotazione tarda dei Vangeli, perché gli fa comodo così, dice dopo trent'anni ecco che Gesù è diventato un personaggio realmente esistito. Dice per cui noi dobbiamo pensare che all'inizio Gesù non fosse fosse concepito come un arcangelo, no? Come il Melchisedec che noi incontriamo nei testi di Qumran, oppure come il figlio dell'uomo che incontriamo in Daniele, che è una figura angelica che non si capisce, oppure come l'Enoch che incontriamo nella letteratura enochica, no? In questo non c'è a tutti i torti, però lui mette il carro davanti ai buoi, no? Nel senso, poi sì, è vero che nei sinottici e in Paolo Gesù viene reinterpretato alla luce di queste figure, ma lui fa al contrario, lui dice che prima è così e poi diventa un uomo. E alle tesi di Cari era risposto uno studioso che è stato tra i più importanti studiosi delle origini cristiane contemporanei, no? Che era Larry Hurtado, che è morto un paio di anni fa, che sul suo blog prese e dissossò praticamente la tesi di Cari, no? Lui dice allora nel giudaismo non esiste nessun arcangelo che si chiama Gesù. Allora, dice nessun angelo, cioè Gesù, il nome Gesù è sempre ed esclusivamente riferito a una figura umana. In tutta la letteratura ebraica non c'è mai un'entità sovrumana che si chiama Gesù. Mentre per esempio Melchisedec, no? È un personaggio che oggettivamente, però vedi, è sempre al contrario, è un personaggio che in Genesi è una persona in carne ed ossa e poi nella letteratura enochica diventa un personaggio in qualche modo sovrumano, non in quelle che nella letteratura enochica diventa un personaggio in qualche modo sovrumano, no? E il passaggio è al contrario. Invece lui dice il contrario, cioè che prima è una figura sovrumana e infatti lui, la seconda critica che fa Hurtado dice in nessun culto misterico, nessuno, noi assistiamo a differenza di quello che dice Carrier ma non lo prova, in nessun culto misterico noi vediamo che Mitra prima è un dio e poi diventa un uomo oppure che, che ne so, Attis prima è un dio e poi diventa un uomo, cioè da nessuna parte cioè tutte le grandi divinità degli ultimi misteri sono dei all'inizio e sono dei alla fine cioè non c'è questa trasformazione della divinità ad esseri umani. Ma se lo sbaglio Hurtado sostiene anche la tesi che tra, diciamo, i racconti, la generazione cristiana che racconta di Gesù e i fatti originari c'è un tempo troppo breve perché possa, diciamo, crescere e nascere una storia completamente inventata o non troppo lontana dalla realtà. Esatto, che è proprio quello che stavo per dire, l'altra critica che fa Hurtado, a parte lui dice che Hurtado fa notare che appunto gli scritti cristiani in ambito giudaico, quindi bisognerebbe dimostrare prima di tutto che nel giudaismo, nella Palestina e nel giudaismo del primo secolo ci fossero infiltrazioni, diciamo, di carattere paganeggiante così grandi da giustificare la nascita, questo tipo di discorso. E in realtà l'archeologia, la letteratura, questo è un discorso che io affronto appunto in incontro a Gesù dove riporto tutti i dati possibili e immaginabili, l'archeologia e la letteratura esistente ci dicono il contrario, ma Hurtado nota un'altra cosa, Hurtado nota che semmai nei Vangeli noi assistiamo al fenomeno inverso, cioè il primo Vangelo noi sappiamo il più antico è quello di Marco, tra i canonici ovviamente, il più recente, relativamente più recente è il Vangelo secondo Giovanni. Allora, è evidente da chi legga il Vangelo di Marco e poi legga il Vangelo di secondo Giovanni che il Vangelo di secondo Giovanni ha una cristologia molto più sviluppata rispetto al Vangelo di Marco. No? Cioè, il Vangelo del secondo Giovanni parte con l'incepit in cui ti dice che Gesù è il verbo fatto carne. Il Vangelo di Marco è molto più umano, no? Quindi noi qui possiamo assistere a uno sviluppo della riflessione cristologica, no? Quindi è proprio il contrario, proprio esatto, di quello che ci dice Carrier. Cioè, i primi cristiani hanno un'immagine di Gesù, diciamo, molto umana, perché l'avevano conosciuto proprio come uomo. Ovviamente già nei sinottici, se Gesù forse non è ancora identificato come il verbo di Dio, quindi come il Dio creatore, ma sicuramente è dimenticato come una figura divina, così come già in Paolo, sicuramente Gesù è una figura divina, pur se probabilmente non è ancora il Dio creatore, ma questo è un discorso che ci porterebbe troppo lontano. Però, appunto, c'è uno sviluppo che al contrario, la riflessione cristologica va al contrario di come ci dice Carrier. Carrier ci dice che prima è una figura meramente sovrumana e poi si umanizza, invece è al contrario. Cioè, ha molti più elementi umani il Gesù di Marco che non il Gesù di Giovanni. Tu leggi i sinossi, i due evangeli, cioè chiunque, anche un semi-analfabeta si rende conto. Quindi, cioè, sono ipotesi che non stanno ad hoc, proprio ad hoc, che non solo sono campati in aria e vengono introdotte gratuitamente, ma che spesso contraddicono i dati così come emergono dalle fonti. Allora, Adriano, mi sembra che in questi ormai 50 minuti abbiamo coperto tutto quello che si poteva dire in 50 minuti. Io direi di dare un'occhiata alle domande, anzi invito insomma a tutti quelli che ci stanno seguendo, che sono parecchi, a fare delle domande. Le prendo un po' così, come capitano, e te le lancio. Giovanni dice, abbiamo una datazione certa dei vangeli e da chi siano stati effettivamente scritti? Allora, certa no. Certa non c'è. Di certo in storia, in storiografia, non c'è mai niente. Noi sappiamo che i vangeli probabilmente sono stati scritti, i quattro vangeli canonici nell'ultimo quarto del primo secolo. C'è chi propone, io per esempio sono favorevole a una datazione di Marco un po' precedente. Io sono convinto che Marco sia stato scritto in realtà verso la metà degli anni 60. E c'è chi invece propone una datazione un po' più tardi. C'è chi, per esempio, dice che Giovanni e forse anche Luca in realtà sforerebbero un pochino nel primo secolo. Sarebbero del primo decennio, del primo ventennio, del primo secolo. Però questa è la fascia del secondo secolo. Sì, scusa, mi perdona. Sì, sì, c'era giù. No, magari. Sarebbero anche. Sì, del secondo secolo, l'apsus. Quindi, cioè, però ovviamente chi li ha scritti è, anche questa è una vessata questio. Però non è tanto, il problema non è tanto chi li ha scritti, ma su che tipo di informazioni coloro che l'hanno scritto, scritti, potevano contare. C'è un importante studioso contemporaneo che, Bocam, che dice che ha riportato in auge, in anni recenti, l'ipotesi secondo cui i Vangeli sarebbero in realtà il frutto di testimonianze oculari. Ha scritto un libro appunto, Gesù e i testimoni oculari, che è uscito anche in italiano, per le edizioni... Ricorda che pesa su di te la responsabilità morale di citare tutto, perché poi metterò tutto nella descrizione del video. Sì, sì, no, nel frattempo in inglese è uscita la seconda edizione in cui lui risponde anche ai suoi critici. È un'ipotesi, secondo me, forse anche un po' troppo eccessiva. Però c'è tutto un filone di studi di cui, diciamo, uno dei studiosi più importanti è James Dunn, per esempio, che è un importantissimo studioso del Gesù storico, che appunto ha approfondito questo tema della tradizione orale, perché noi sappiamo che prima della stesura dei Vangeli c'è stato un periodo in cui le informazioni a riguardo di Gesù sono state trasmesse in modo esclusivamente orale. Allora il problema è questo, cioè Bullman riteneva, e la critica delle forme riteneva, che in questa fase ci fosse stata una completa metamorfosi delle informazioni a riguardo di Gesù, perché? Perché appunto la comunità cristiana non era tanto interessata alla memoria di Gesù, quanto quindi al Gesù terreno, quanto al Gesù teologico, e quindi in questo periodo, in questo rasso di tempo c'è stata una grande metamorfosi di queste trasfigurazioni, di queste informazioni, per cui dai Vangeli fondamentalmente non è possibile rimontare al Gesù storico. Invece c'è tutto questo filone di ricerca che ci sono tanti autori, Kelber, Bailey, Dunn stesso, lo stesso Buckham, che invece hanno approfondito questi temi. Vabbè, penso che possiamo annunciare già che faremo magari poi una chiacchierata sulla storicità dei Vangeli, che effettivamente è un tema diverso. È proprio il fulcro di questo libro qua. In Contra Gesù c'è tutta la parte, in Contra Gesù si parla proprio di questo. È un libro che... Però ti tocca fare una ristampa, perché mi hai detto che è quasi introvabile già il libro. Poi ci cercheremo. Se ormai credo si trovi... Io spero di fare una seconda edizione, perché alcune cose le vorrei cambiare, in verità. Perché poi, ovviamente poi uno degli anni... Vai, facciamola, sta seconda edizione. Senti, qui c'è Cosimo, che forse non ha sentito, Cosimo Francesco, parte del video, e chiede altre prove dell'esistenza storica di Gesù. Però mi sembra che abbiamo detto abbastanza chiaramente che in realtà l'onere della prova... Abbiamo una maria di fonti che ce ne parlano. Cioè, non è che... Sei tu che lo neghi che devi dirmi perché non ti fidi di quelle fonti. Io ho delle fonti che mi parlano di Gesù, che sono fonti sia cristiane che extra cristiane. Cioè, il famoso testimonium Flavianum, di Flavio e Giuseppe, che è vero che è parzialmente interpolato, ma oggi il cento per cento degli specialisti, degli studiosi, lo ritiene, insomma, uscito dalla penna di Giuseppe e Flavio. Giuseppe e Flavio parla anche di Giovanni il Battista, cioè nomina diversi personaggi... Anche Giacomo, no? Nel passo in cui nomina Giacomo, parlando della sua morte, lo identifica come il fratello di Gesù, detto il Cristo, no? Ecco, ma nessuna di questi passaggi ha il sospetto di interpolazione. Allora, il sospetto c'è stato, però non è più sussistente, nel senso, oggi come oggi, gli studiosi li ritengono tutti, tranne il testimonium Flavianum vero e proprio, quello lì in realtà si pensa che almeno parzialmente possa essere stato un po' diciamo zuccherato. Perché probabilmente però secondo me sono delle glosse che sono finite nel testo, in realtà. Probabilmente sono delle glosse di un copista che poi in qualche modo sono finite dentro al testo. Però nella sua struttura portante lo analizza in modo molto dettagliato, per esempio Meyer, nel primo volume del suo Un ebreo marginale, e spiega come, insomma, anche da un punto di vista linguistico, no? Cioè una volta eliminate le presunte interpolazioni, il testimonium è coerente linguisticamente con tutta l'opera flaviana. Quindi, cioè in realtà oggi nessuno, 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 nessuno a livello accademico mette in dubbio che appunto questo passaggio delle antichità giudaiche sia originale, venga dalla penna di Giuseppe Flavio, che non sia un'interpolazione del suo complesso. A prescindere da questo, appunto, come dicevamo, Giuseppe Flavio cita Gesù in un altro passaggio, che è quello di Giacomo, in cui cita semplicemente la sua esistenza, però appunto già quello basta a dire che Gesù esistì, cioè per Giuseppe, per Flavio Giuseppe, Gesù era esistito, era un personaggio storico e Giuseppe, Flavio Giuseppe scrive eh eh alla fine del del primo secolo, no? Negli anni novanti del primo secolo. Certo, dopo la guerra giudaica, lui era un reduscia della guerra giudaica. È quasi diciamo è di una generazione successiva a Gesù, fondamentale, due generazioni dopo di Gesù, eh aveva avuto probabilmente, lui poi era di classe sacerdotale, quindi probabilmente aveva avuto accesso anche agli archivi sacerdotali, i costoditi a Gerusalemme, aveva da una famiglia molto importante. Eh quindi insomma diciamo che ehm le informazioni che lui ci, ma è vero che oggi è l'unica l'unica fonte che noi eh ampia che noi abbiamo sulla Palestina, no? Sulla sulla Palestina del primo secolo è lui e in genere le sue le sue informazioni sono ritenute attendibili, quanto possono essere quelle di qualsiasi storico antico, ovviamente. Allora Francesco Papa ci chiede se ci poniamo sul piano storico negare l'esistenza di Gesù è segno di ottusità, invece volevo chiedere perché scegliere solo questi quattro Vangeli a fronte di materiare eh ulteriore scoperto? Forse Francesco ti riferisci ai quattro Vangeli, non sono le uniche fonti storiche i quattro Vangeli, l'abbiamo appena detto, ma forse lui si riferisce ai Vangeli apocrifi che forse non sono. Sì, però oggi si intende, allora i Vangeli apocrifi mh eh a parte forse il Vangelo di Tommaso, considera che in genere i Vangeli apocrifi, almeno quelli che sono giunti fino a noi eh sono tutti di almeno una generazione o due più 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 giovani rispetto a a ai Vangeli eh sinottici e rispetto ai Vangeli sinottici sinottici almeno tre generazioni e rispetto ai Vangeli. Cioè sono più nel senso più cioè i Vangeli apocrifi vengono due o tre generazioni dopo i Vangeli. Dopo. Dopo i Vangeli canonici sì. Sono più giovani rispetto a noi sì. Esatto. Quindi vengono dopo e e poi nascono in contesti che spesso tradiscono poca dimestichezza con la Palestina del primo secolo, con gli usi con gli usi cristiani per cui cioè con gli usi ebraici con la situazione storica della Palestina del primo secolo per cui in genere per quanto non si escluda che possano contenere delle informazioni utili eh per la ricostruzione storica della figura di Gesù in genere non vengono presi in grossa considerazione ma anche il materiale che sta nei Vangeli canonici gli storici non è che lo pigliano così di peso no? Così come viene. Ovviamente adottano dei criteri molto sofisticati per valutarne l'attendibilità storica no? Poi è appunto Meyer ci ha scritto cinque volumi ma probabilmente alla fine saranno sette in cui valuta ogni singola informazione no? Impressionante quel lavoro. Sviscerando ogni possibile. È impressionante quel lavoro. Credo che sia imbattibile. Senti Liliana Papaleo dice come è possibile nello studio storico di Gesù mettere da parte la fede in Gesù come Cristo? Forse Liliana ha bisogno un po' di capire che cosa significa la metodologia dello storico rispetto a quella del teologo quando si e con i Vangeli. Allora come come è possibile mettere da parte tu studi Maometto la figura di Maometto eh io sono cristiano quindi io non sono un islamico quindi è ovvio che dovrò approcciarmi alla figura di Maometto come non islamico quindi per me cosa 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 rimane allora della figura di Maometto? Maometto come figura storica no? Io sono cristiano per me Maometto non è il sigillo dei profeti è un importante personaggio storico che ha fondato una religione e lo studio per quello che è no? Ma tra l'altro proprio Maier nel nel suo lavorone proprio nell'introduzione al primo volume fa questo esempio no? Se io mi siedo a tavola con un musulmano un ebreo non credente che cosa posso dire su Gesù che diciamo scientificamente e storicamente tutti ci mette d'accordo l'ultima che quella è l'idea. La storia è una scienza umana no? Quindi che prescinde dalla rivelazione no? Quindi non può nell'indagine storica noi non possiamo far propri eh gli elementi che ci vengono dalla rivelazione dobbiamo basarci esclusivamente su quelli che sono eh i fatti storicamente attestati e quindi di cercare di tirar fuori una 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 figura una una un'immagine di Gesù eh secondo un punto di vista come si dice agnostico perché il quello della dello storico è un agnosticismo di tipo però metodologico no? Perché perché eh appunto si presuppone che la storia sia una scienza appunto va fondata sulla ragione di ragione quindi non di fede una scienza di ragione accessibile a tutti gli uomini a prescindere dall'opzione di fede se ce l'hanno che li anima per cui appunto dice Maier eh cosa possiamo se io mi metto intorno ad un tavolo insieme a un agnostico un musulmano un ebreo un buddista eccetera eccetera quindi a prescindere dalle nostre fedi fondamentalmente delle fedi di ognuno che cosa noi possiamo eh che cosa rimane della figura di Gesù eh in realtà rimane un sacco di roba dato è vero che lui ci ha scritto già tipo quattromila pagine quindi c'è in realtà ne rimane di roba eh di cui parlare eh vedo che ci sono molte domande interessanti ma quasi tutte sono sulla storicità dei Vangeli perché credo che sia un po' l'esito naturale la continuazione naturale di questo discorso eh evidentemente ci sono pochi miticisti che ci stanno guardando poi magari commenteranno dopo ma Donato Barbetta ad esempio dice nella mentalità ebraica non ci sarebbe mai sognati di inventare il mito di Gesù eh ci sono i miti però inventati nella nella cultura ne abbiamo parlato prima cioè in realtà non è proprio così nel senso che eh parlavamo prima della figura di 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 Melchisedec no eh Melchisedec è una figura che eh nella nella in Genesi appare come una figura umana no? Eh il personale il San Gran Sacerdote di Salem no? Eh che è una figura puramente umana no? Eh che poi nella letteratura successiva soprattutto nella letteratura cumoranica eh diventa invece una figura sovrumana addirittura a Melchisedec vengo viene attribuita la nascita virginale quindi non è Gesù nella letteratura ebraica non è l'unico personaggio che possa contare su una nascita virginale c'è anche Melchisedec nella letteratura cumoranica che può contare su una nascita virginale eh quindi c'è in realtà eh c'è c'è uno sviluppo ci sono degli sviluppi eh in questo senso anche Enoch Enoch che eh a parte il fatto che su cioè o comunque siete essendo essendo entrambi figure che appaiono in Genesi cioè già sulla loro storicità storicità aborigine c'è 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 da dibutarne però insomma se Genesi comunque ce li propone con dei personaggi diciamo umani eh invece per esempio nella 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 letteratura enochica Enoch diventa un personaggio sovrumano fondamentalmente eh quindi c'è c'è uno sviluppo in realtà non è non è completamente estraneo al pensiero ebraico questo modo di ragionare il tema è che non lo possiamo applicare eh per Gesù cioè o comunque possiamo applicarlo nella eh rilettura teologica della figura di Gesù perché poi nella sua rilettura teologica ovviamente eh di Gesù confluiscono tutti questi elementi tratti dalla teologia eh giudaica che hanno il giudeismo del secondo tempio che poi eh ovviamente poi si realizzano in una sintesi originale che è che è quella poi cristiana eh però eh non possiamo appunto cioè il come dicevamo prima il 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 procedimento è inverso cioè è una figura storica che poi viene meditata teologicamente e a questa figura storica vengono applicate categorie eh tratte dalla teologia del della giudeismo del secondo tempio che poi sfocia in un qualcosa di diverso eh è nuovo fondamentalmente eh però appunto eh non possiamo negare la storicità di di questa figura no? Allora c'è qui Tomasunin che credo faccia una domanda che ci sta proprio sta proprio a tema è proprio a tema differenze tra miticismo e demitizzazione qual è l'equilibrio tra storia e mito? chi lo garantisce? Cioè qual è la differenza tra miticismo e demitizzazione? Perché tu prima hai accennato che Bultman sì sì è la demitizzazione ma non è un miticista cosa significa? La differenza è che Bultman credeva credeva che in realtà comunque la figura la figura di Gesù e i Vangeli avessero senso per noi oggi e la demitizzazione cioè era questo proprio cioè eh spogliare i Vangeli da tutti gli aspetti mitici per trarne il senso intimo e capire cosa che che cosa questi potevano significare per noi oggi che non abbiamo più una mentalità mitica come ce l'avevano eh i primi cristiani questo fondamentalmente però eh eh questo perché perché per Bultman però Gesù era un personaggio storico realmente esistito quindi comunque c'era un fondamento storico nel cristianesimo eh e quindi il cristianesimo per questo il cristianesimo era un qualcosa di reale eh anche se tramandato in una coltre mitica e proprio perché il cristianesimo era un qualcosa di reale e e trasmetteva un messaggio reale noi dovevamo spogliare 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 questo messaggio dalla ehm diciamo dalla 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 sbucciare questo messaggio dalla dalla buscia di miti che appunto il i primi cristiani che ragionavano in questo modo li avevano costruito attorno per capire quale poteva essere il senso eh di questi di di questo messaggio per noi oggi. Salvatore dice da quanto ho capito allora l'esistenza storica di Gesù e da ricercarsi in Giuseppe Flavio? Non solo. Forse Salvatore non ha seguito tutto il video ecco non è soltanto. Giuseppe Flavio è una delle tantissime pezzi pezzi di appoggio cioè eh anche i Vangeli anche i Vangeli canonici sono delle fonti storiche eh su Gesù. Ma qui ti faccio una domanda io Salvatore ehm Adriano ma che prende un po' spunto da questo Salvatore ma il cristianesimo stesso si può considerare una prova dell'esistenza di Gesù o no cioè il cristianesimo delle origini si potrebbe noi abbiamo testimonianze diciamo indiscutibili l'esistenza del cristianesimo può nascere capito? Senza un fondatore senza un fondatore questa è quello che dicono eh cioè il cristianesimo infatti se tu vai il cristianesimo delle origini è eh incentrato su una figura che però è considerata un qui è predetto però il discorso che fanno i miticisti è proprio che loro consideravano però la figura di Gesù già i primi i primissimi cristiani come mitica però per fare questo per esempio Carrier cosa fa? Se tu vai leggi San Paolo San Paolo dici nato nato da donna figlio di Davide secondo la carne c'è no? Crocifisso. Crocifisso. Poi crocifiggio è un mito. Però quando tu dici che è nato da donna dal seme di Davide no? Cioè stai dando delle coordinate ben precise di una figura che che è vissuta in carne ed ossa. Infatti poi Carrier per dice dice che in realtà sono che se ovviamente ipotesi nuovamente ad hoc siccome questa cosa non gli va bene sono delle interpolazioni dei copisti successivi no? E lì introduce sempre ipotesi ad hoc su ipotesi ad hoc per sostenere la tesi che appunto i passaggi in cui Paolo tradirebbe una carnalità di Gesù in realtà sono delle interpolazioni dei copisti no? Delle generazioni successive che ormai pensavano a Gesù come una figura storica però appunto cioè è palese non se ne esce non se ne esce è palese che un ipotesi ad hoc non è sempre lo stesso cane che si morde la coda cioè tu li dati i dati a meno che non ci sono delle evidenze così schiaccianti per cui tu dici no è come per esempio la famosa pericope dell'adultera noi ci abbiamo delle evidenze che ci dicono che quella originariamente nel manzerio di Giovanni probabilmente non c'era e quindi lì sì però ci sono delle evidenze forti di carattere appunto testuale ma invece questa è una cosa completamente campata in aria sta in tutte le copie esistenti del dell'epistolario Paolino cioè ci sono questi passaggi e tu ti devi andare a inventare un motivo per cui ad un certo punto qualche comista gli avrebbe inserito e poi guarda caso non uno cioè allora senti ogni tanto ci si imbatte no quando si sostiene l'esistenza storica di Gesù o comunque elementi diciamo che non contenuti elementi temi di discussione che non riguardano necessariamente la fede ma la storia ci si imbatte in domande come questa cioè che instillano il sospetto scusate ma non sarete di parte chi è che non è di parte ma diciamo che il lavoro è di parte siamo tutti di parte ma qui è ma se noi seguiamo un metodo no proprio un mese c'è da dire questa cosa c'è da dire questa cosa che tra gli storici accademici a prescindere dalla allora c'è uno dei più famosi storici delle origini cristiane che è Bart Ehrman che dichiaratissimamente ateo io sono lui dice sono agnostico con tendenza all'ateismo no e lo dichiara apertamente no e così Lüdemann Lüdemann uguale ha fatto un percorso analogo era un credente che è diventato ateo ma nessuno dei due sono due importanti studiosi delle origini cristiane lo stesso bermeco rubio che non credo sia credente ma non è gente che mette in dubbio l'esistenza storica di Gesù poi propongo e se tu poi vai a vedere Bart Ehrman propone una lettura della figura storica di Gesù che non è molto distante che ne so da quella di di Ellison o di o di Mayer o di altri cioè ci sono ovviamente delle differenze a livello di interpretazione no però come sia così perché poi ovviamente ogni ogni storico ha una propria interpretazione però ci sono delle un'ossatura generale no c'è una un'armatura fondamentale della vicenda storica di Gesù con alcuni fatti essenziali su cui tutti 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 sono d'accordo cioè non c'è nel mondo accademico poi ovviamente gli scappali da casa appunto inventando ipotesi ad hoc e leggendo quello che gli pare facendo cherry picking possono sostenere qualsiasi teoria ma appunto andando contro quello che è il metodo di ricerca Confortablinam dice un ateo può essere di parte ma un ricercatore agnostico che indaghi un metodo scientifico dovrebbe non esserlo non esserlo nel seguire il metodo scientifico ma siccome agnostico pure lui è di parte no che ne pensi adria sì no ma poi herman dice io sono agnostico con tendenza all'ateismo quindi non è cioè lui lo dice quindi uno dichiara subito che squadra è e poi comunque gioca a calcio secondo le regole ma il tema è che c'è un metodo che è stato elaborato in quasi ormai eh 300 anni di ricerca eh lungamente elaborato che va che appunto uno va all'università si studia i testi per acquisirlo e e su cui sono tutti bene o male d'accordo che si sia atei che si sia credente cioè eh l'ebreo marginale di Meyer che Meyer è un prete cattolico cioè non è che è apprezzato solo nelle cioè non è che viene letto nelle chiese cioè viene letto in tutte le università del mondo Meyer è uno studioso apprezzato è citato da tutti gli studiosi anzi nelle chiese non viene letto perché già ci vengono in pochi in chiesa se ci mettiamo a leggere Meyer scappano tutti perché vabbè Meyer lo leggiamo col prof magari qualche altra diretta sì no ma la stessa cosa vale cioè è ovvio che poi una buona parte degli storici che che si che si interessano al giro storico sono credenti perché poi ovviamente hanno delle formazioni da biblisti quindi ci hanno una specializzazione no eh però ormai ormai una buona parte degli specialisti non non è composta di credenti eh io stesso quando ho cominciato ad occuparmi di queste cose non ero credente ci sono diventato dopo proprio studiandole in buona parte eh quindi sono da da posizioni miticiste oppure no 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 quello mai no vabbè no ma io avevo una formazione storico religiosa però ero però cioè per me Gesù io non ho mai messo in dubbio l'esistenza storica di Gesù però non credevo appunto che fosse appunto il verbo fatto carne ecco insomma quello a quello non ci credevo eh poi da una precisazione l'agnostico voleva dire religioso ma intendiamo ricercatore che abbia un approccio neutrale cioè il metodo di essere neutrale poi ognuno c'ha il metodo il metodo storiografico è un metodo che aspira aspira alla neutralità e quindi all'agnostisismo certo è ovvio che poi tra il dire e fare c'è di mezzo il mare nessuno è mai completamente libero no dalle proprie precomprensioni dei propri pregiudizi però appunto il libero confronto tra gli studiosi crea un terreno no di confronto tra le varie tesi eh che è libero no eh che appunto rispondendo le tesi a una determinata metodologia vengono apprezzate e valutate per quello che sono no poi è inevitabile che eh ci sono eh degli autori che eh essendo arei tendono magari a a esercitare uno scetticismo maggiore su alcuni temi sui quali e magari non ci sarebbe neanche bisogno di essere così scettici per il credere però c'è comunque c'è un dibattito aperto e come dicevo prima cioè se tu vai a vedere la figura eh di di Gesù così come viene ricostruita da eh da Erma non è che sia diversa tantissimo diversa da quella che 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 ricostruisce per esempio un Ellison che invece è un credente no cioè eh anzi ci sono dei credenti che 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 sono molto più minimalisti da un punto di vista storico rispetto ad alcuni agnostici no cioè mi faceva notare per esempio un amico che eh non faccio il nome che è un importante studioso del Gesù storico e proprio leggendo leggendo che è credente leggendo il il testo di Bermaco Rubio dice Bermaco Rubio crede molto di più che Gesù eh si fosse proposto di Messia come Messia di quanto ci creda io che sono credente storicamente ovviamente no perché ovvio che ovviamente addirittura secondo lui si è proposto in maniera violenta quindi in maniera molto più sì esatto ma e poi era un pretendente messianico mentre ci sono dei eh del eh molti storici che dicono che in realtà Gesù era visto al popolo come un pretendente messianico di eh secondo una lettura messianica del messianismo di davidico cosiddetto mentre Gesù non si non non proponeva il modello messianico davidico no eh però appunto lui lui non si è mai proposto come un pretendente messianico di di tipo davidico o addirittura non si è mai proposto proprio un un pretendente messianico ducur anche se la gente per via delle sue opere potenti no della sua fama di di essere operatori di guarigioni no e lo vedeva come un pretendente messianico senti Fiammetta ci fa la domanda delle domande che io ti eh ti riporto in chiave esistenziale diciamo ok Gesù esiste lo storicamente come però si fa capire che non è solo rimasto un mito dopo la sua morte ma è ancora vivo nella tua esperienza nella tua esperienza come si passa da dal Gesù della della storia a quello della fede perché è un percorso personale questo o no sì quello allora eh allora la fede non è che può scaturire da argomenti storici la storia appunto dicevamo è agnostica già nel momento io adesso ho fatto questo questo mio libro questo è uscito l'anno scorso la risurrezione di Gesù un'indagine in cui io faccio un'indagine eh sulla credibilità della risurrezione di Gesù che però appunto eh c'ha un sacco di eh storia dentro però passa ad un livello metastorico cioè un livello teologico fondamentale perché eh parte appunto e rompe il cerchio dell'agnosticismo cerca già nei suoi presupposti perché appunto eh già nei suoi presupposti lo rompe per eh indagare appunto questo questo evento e eh cercare di capire se è credibile o meno io eh giungo alla conclusione che eh non solo è credibile ma eh lo è al di là di ogni ragionevole dubbio però ovviamente qui io parlo da credente da teologo fondamentale non da non da storico ecco qui il bias del credente è chiaramente è ovvio però è un discorso cioè in realtà ehm io mi pongo dal punto di vista dell'agnostico dell'agnostico e procedo nella mia analisi dei dei fatti però non eh limitandomi esclusivamente a un'analisi storica ma anche a un'analisi metafisica perché a un certo punto lo storico per esempio eh non si impegna sulla possibilità eh che eh Gesù possa aver compiuto dei miracoli lo storico dice si credeva Gesù era ritenuto un operatore di miracoli si diceva che è un fatto storico si si crede cioè effetti ha fatto evidentemente ha operato eh determinate cose che hanno testato meraviglia perché questa è la radice del termine miracolo nei suoi nei in chi in chi lo ha conosciuto e eh gli ha fatto guadagnare la fama di essere un operatore di miracoli a questo lo storico può arrivare a questo il teologo fondamentale può fare un passaggio ulteriore e stabilire se è ragionevole credere nei miracoli per esempio perché se io dico da teologo fondamentale che è ragionevole credere nella possibilità che qualcuno compia dei miracoli allora quelli di Gesù potevano essere veramente miracoli e potrebbe potrebbe essere però sto ragionando sulla teologo a questo punto da teologo sulla teologo sono più uno storico a questo punto è certo è certo è un cambio di prospettiva cioè sto comunque guardando lo stesso materiale fa un passo ulteriore cioè rompe rompe il cerchio della dell'agnosticismo e fa un passo ulteriore allora tantissime sono state le domande e purtroppo credo che ormai siamo oltre il tempo consentito ragionevole di un di un video tollerato su youtube e comunque continuare questo discorso penso approfondendo però la questione del rapporto tra Vangeli e storia che anche questo credo che sia interessante perché ho visto che molte la maggior parte le domande in realtà andavano in quella direzione perché si vede che anche nel grande pubblico ormai il problema dell'esistenza storica di Gesù sembra abbastanza risolto insomma Vangeli e storia è un tema molto complesso ma Vangeli e storia penso che sia molto complesso ma che forse anche più diciamo più esistenzialmente coinvolgente in qualche modo rispetto a quello del Gesù però comunque è stata una chiacchierata molto interessante perché insomma ci ha permesso di dichiarare alcuni punti insomma il rapporto tra storia e fede tra mitologia scientifica no e risposta esistenziale quindi credo che già questo sia un grande passo avanti perché sono insomma che moltissimi che seguono il mio canale che sono interessati soprattutto alla parte del canale in cui commento e leggo i Vangeli e vedo che insomma sono particolarmente sensibili a questo a questo discorso va bene allora Adriano grazie infinite allora contiamo su di te cioè ci hai promesso che ci metti una bella bibliografia quindi mi mandi il link e la metto a disposizione qua sotto come commento al video intanto continuate a commentare il video mettete il vostro canonico mi piace se siete stati insomma coinvolti interessati da questa chiacchierata condividetelo fatene l'uso che volete insomma purché non non venga dimenticato insomma questa nostra questa nostra chiacchierata un abbraccio a tutti che seguite il prof e noi ci vediamo domani per commentare insieme la pagina del Vangeli domenica prossima di quella che viene ancora dopo quindi vi aspetto domani sera a domani sera alle 18 e 30 qui su facebook su youtube e su twitch in simulcast contemporaneamente i grandi mezzi del prof ringrazio tutti quelli che mi hanno fatto una donazione durante la diretta e un abbraccio a tutti ciao a presto ciao ciao